Sì, sono in fiera qui a Berlino, all'IFA. Abbiamo appena iniziato e stiamo iniziando a presentare i prodotti. Sono tutti il guanto, tutti tutti. Ti devo lasciare. Ciao. Come funziona? Allora, il guanto è semplicissimo. Lo abbini Bluetooth al telefono, tasto per rispondere, tasto per attaccare, premo il verde, rispondo, parlo nel mignolo, ascolto nel pollice, mi diverto e prendo in giro gli amici e lo uso come un normale telefono. Finito, riattacco e la chiamata è finita. Quindi speaker e microfono integrati. Speaker e microfono, esatto, come l'ispettore gadget. Qui abbiamo un piccolissimo auricolare speaker fucito all'interno del pollice, qui abbiamo il microfono. Inoltre, le due dita sono touch sensitive, quindi possiamo controllare lo schermo dell'iPhone e del nostro smartphone. E l'autonomia? L'autonomia è dalle 4 alle 6 ore in conversazione, quindi un'autonomia. Stand by? Te lo ricordi? Circa 20 ore. Comodo d'inverno? Comodo d'inverno, rivoluzionario per sempre. McSitinet, iFan, iFaBerlino.